Allora, intanto buonasera, grazie di essere qui in questa serata in cui presentiamo l'ultimo, non l'ultimo, diciamo, il più recente libro di Carlo Lucarelli, non bisogna mai dire l'ultimo. Allora, come voi certamente saprete, molti di voi saranno lettori del genere o comunque avranno letto altri libri di Carlo Lucarelli, quando si parla di un giallo è sempre meglio andare molto cauti, vedo gente che fa sì sì, non dite niente, non dite neanche di cosa parla, insomma. E quindi, come dire, ci muoveremo molto sul raccordo anulare della storia, però forse è utile partire dal fatto che con questo libro Carlo incontra, o meglio ritrova, rincontra, dei personaggi che chi è affezionato al suo percorso narrativo in qualche modo conosce. La prima domanda che ti faccio, per entrare subito, come dire, nel cuore delle tue scelte, è qui abbiamo un personaggio, un investigatore che noi conosciamo, che è Garzia Negro, e siccome poi tu in realtà segui anche altri investigatori, hai altre piste, altre saghe, o altre serie aperte, quando è e com'è che decidi a un certo punto di dire, è tempo di ritirare fuori dal cassetto Grazia Negro e fare un viaggio con lei? Beh, buonasera. Allora, succede questo, succede che ci sono delle storie, dei personaggi che ti raccontano quella storia. Io arrivo subito a Grazia Negro, la prima volta che ho scritto, cioè il primo romanzo che ho scritto, senza sapere neanche se avrei continuato, era carta bianca con il commissario De Luca. Non è che l'ho scritto pensando questa sarà una serie, l'ho scritto, è finito, poi mi è venuta in mente un'altra idea e l'ho scritto, ambientati durante il fascismo. Poi succede che io sono a Bologna e negli anni 90 c'è la vicenda della Uno Bianca. Vi ricorderete, qualcuno conoscerà un evento incredibile che trasforma Bologna in una specie di Los Angeles. E io ho pensato, devo scriverci un romanzo sopra questa dinamica qui. E De Luca non me lo avrebbe potuto raccontare, non so neanche se sarebbe stato ancora vivo negli anni 90. E allora è arrivato Coliandro, l'ispettore Coliandro, che mi ha raccontato la Bologna della Uno Bianca. Poi sono andato avanti e è tornato De Luca a raccontarmi un altro pezzo della storia d'Italia, è tornato Coliandro a raccontarmi un altro po'. Poi quando mi è venuto in mente di raccontare una certa Bologna molto angosciata, molto individualista, molto disperata, più profonda, più intima, Coliandro non sarebbe stato in grado di raccontarmela, ma neanche di capirla, ma neppure di accorgersene. E allora ho pensato, chi me la racconta? E per una serie di vicissitudini è venuto fuori grazie a Negro. E così è successo, negli anni mi sono venute in mente delle cose e quelle cose erano adatte a lei. E lei tornava tutte le volte, da una parte perché c'era la storia giusta per lei, per farmela raccontare da lei, col suo tipo di sguardo e con lo sguardo delle persone che le stavano attorno, e dall'altra parte perché i personaggi, come sai benissimo, si portano dietro dei punti interrogativi che continuano dopo l'ultima pagina del libro. E ti viene da chiedergli, va bene, ma dopo cosa hai fatto? Dopo cosa ti è successo? Come sei cambiato in questo periodo? Ecco, quando ho scritto questo romanzo, a dire il vero, stavo progettandone un altro che era diverso, con altri personaggi, e poi improvvisamente ho incontrato una cosa che volevo raccontare, un'angoscia che volevo raccontare, mi sono tornati in mente i dubbi, le domande che avrei voluto fare a un personaggio come Grazia e Simone, gli altri personaggi del libro, e mi è venuta in mente la storia per quel libro, per cui l'altra storia si è fermata un attimo e sono tornato a questa. È così che succede, sono degli incontri che fai dopo un po' di tempo con delle persone che credevi di conoscere, ma che hai voglia di conoscere meglio. Qui però Carlo, tu non solo, come direi, hai trovato un'indagine e hai pensato che quella fosse l'indagine giusta per lei, ma in un certo senso c'è un ritorno alla storia fondatrice di tutta questa saga dell'investigatrice, perché non c'è solo lei in campo, ma ci sono anche Simone, appunto, che è uno dei protagonisti di Almost Blue, e poi c'è anche Liguana, e quindi in un certo senso c'è anche lo stesso killer che torna in circolo. Però, ecco, non dovete immaginare che nel libro succede qualcosa che, per esempio, vediamo in serie televisive come la signora Freccia, il tenente Colombo, cioè che i personaggi vengono ripresi sostanzialmente nella puntata successiva da dove sono. La signora Freccia ha anche sempre gli stessi capelli, insomma, in vent'anni ha sempre la stessa faccia. No, qui sono passati anni e quindi la vita di questi personaggi è cambiata. Quanto è cambiata e com'è cambiata? Questa è una cosa che però lascio decidere a te cosa si può dire, insomma. No, fin lì alcune cose si possono dire. È cambiata la vita, in effetti. Perché i personaggi hanno una loro storia in tutti i romanzi. Come dici tu, o scrivi di personaggi seriali, così scientificamente seriali, come appunto la signora Flecher, che ti servono solo a raccontare una storia, poi loro non hanno bisogno di uno sviluppo, oppure i personaggi vivono, cambiano. Una storia traumatizzante come quelle che scriviamo noi non possono lasciare indifferente una persona. Quando hanno cercato di ammazzarti, ne hai visto di tutti i colori, magari hai perso un po' di persone che ti stavano vicine, non sei la stessa cosa nel libro successivo. E quindi le cose cambiano. Io avevo, come dire, un punto interrogativo rispetto ad alcuni personaggi, e uno è quello di Grazia, che fin dall'inizio lei era nata, questo personaggio, ancora nel 94, in un romanzo che si chiama Lupo Mannaro, perché ero andato una volta a fare, scrivevo per un giornale locale della zona di Imola, ed ero andato a raccogliere notizie su un fatto di cronaca al commissariato di Imola. E mi ritrovo che davanti a me c'è il dirigente del commissariato, che è una donna, che mi porta dalla dirigente della mobile, che è una donna, e insieme andiamo all'archivio, che è diretto da una donna. Le donne sono nella polizia dall'81, quindi, voglio dire, non era una cosa strana che ci fossero. Però per me, per il mio immaginario, soprattutto di scrittori di romanzi gialli, questa era una novità. E mi sono chiesto, ma siete tutte donne qua? Ma che strano, sciocchezza. Allora ho inventato, ho cercato di inventare un personaggio donna, che mi sembrava una cosa strana, no? E quello era Lupo Mannaro. In Almost Blue, la mia curiosità era più su Grazia e suo rapportarsi ad un mestiere, che veniva ancora considerato, già erano passati anni, comunque veniva considerato un mestiere da uomini. Allora, una donna che fa un mestiere da uomo. E attenzione, sto dicendo sciocchezza, perché non è così. Vi dico come si confronta l'immaginario comune, magari, con un certo tipo. E poi mi sono chiesto sempre, Grazia, che cosa fai? Chi sei? Sei la detective del romanzo giallo, una cacciatrice di uomini. Perché è una che lavora per lo UACV, che sarebbe l'unità che dà la caccia ai serial killers, e lavorava in un altro dei romanzi per la catturandi dell'antimafia. Quindi proprio una persona, no, che è studiata per andare a prendere un criminale. Ma contemporaneamente, la mia grazia si chiede se vuole essere quello, o se invece vuole essere una madre, un'altra cosa. E scopre dopo un po' che questa alternativa è essere mamma, essere un'altra cosa. Anche lì, sono cose che io ho scoperto scrivendo, e sto dicendo sciocchezze di nuovo, perché mentre raccontavo quello che avrei voluto scrivere in un incontro come questo, non mi ricordo, da qualche parte in Romagna, e dicevo sto scrivendo di Grazia Negro, che non sa se vuole essere cacciatrice di uomini o madre, si alza una tizia che mi dice io sono il capo della mobile di questo paese qua, sono cacciatrice e madre, ho due figli ma sono un poliziotto. Si può fare tutte e due? Sì, certo, infatti io non è quello che racconto. Noi raccontiamo molte volte di personaggi che al di là di essere rappresentanti di qualche categoria di personaggi reali, sono i nostri personaggi. Grazia è una cacciatrice di uomini, come lo sono i nostri detective dei romanzi gialli, che sono ossessionati da quello che fanno. Non è essere normalmente una poliziotta quello che fa lei, è essere il poliziotto del romanzo giallo, che è uno che non dorme la notte, che si rovina la vita per quella cosa lì. Ecco, questa cosa diventa alternativa a essere mamma come vorrebbe essere Grazia, che è altrettanto ossessiva, ed è un'altra che magari si rovina la vita, o rovina la vita degli altri. Ecco, è lì il punto interrogativo su quale volevo indagare, ed è lì che mi sono chiesto come sei cambiata, come hai capito questa cosa qua, che ti è successo? E me lo sono chiesto per tutto il romanzo. Non vi dico la risposta ovviamente alla fine, la trovate quasi subito quella. Ecco, io aspettavo il tuo libro, mi arriva, lo apro, ansiosamente comincio a leggere, e alla quinta riga tu fai una cosa che mi spiazza. Mi spiazza perché quella è una questione su cui ho visto arrovellarsi moltissimi narratori. Il romanzo inizia così, vi leggo proprio le prime righe. Marta la trovano sotto il lavandino, incastrata tra il tubo di scarico e i detersivi. Il carabiniere allunga la mano libera, nell'altra la pistola e la tocca. Ma lei tiene lo sguardo fisso davanti a sé, il bordo della mascherina sull'orlo delle palpebre immobili. E qui io, ovviamente appena c'è la mascherina, io ho pensato, ok ma perché c'è la mascherina? Forse perché è un'infermiere. No, invece qui siamo in Covid. Cioè siamo in periodo Covid. Ecco, questa cosa che, come dire, è naturale, è una storia ambientata negli ultimi due anni, diciamo, e quindi fai i conti con la realtà degli ultimi due anni. Però ti assicuro che è una cosa su cui gli scrittori, io ho sentito, io stesso avrei molto timore a scrivere una storia ambientata. Come se il fatto che un po' ci siamo ancora con un piede dentro, anzi, diciamo anche con tutte e due, un po', come dire, è stata un'esperienza così forte che ha cambiato molte categorie. E' come se ci fosse quasi un timore di dire, ma forse non abbiamo ancora gli occhiali giusti per guardare queste. E invece mi piace questa sua spavalderia. Cioè prendi questi personaggi e al di là di tutti i loro casini c'è anche il Covid, che tu usi perché poi, soprattutto questa faccenda delle mascherine, che per tutti noi è ovviamente una rottura, ma in un ambiente come questo, dove le espressioni del volto, delle persone che ti sono di fronte, indiziati, testimoni, cioè la possibilità di captare da un volto delle conseguenze, beh, è chiaro che con la mascherina cambia moltissimo. E infatti tu ne parli in un pari di punti del libro. Ecco, tu sei andato proprio liscio su questa cosa. Sì, perché da un certo punto di vista sono stato fortunato, ma mi spiego, questa cosa qui, mascherina, Covid, pandemia, lockdown, è una cosa, come hai detto tu, sulla quale abbiamo pensato parecchio, ci siamo ravellati tante volte. Io mi ricordo che noi, io e Gian Piero Rigosi, stavamo scrivendo le puntate, mandati in onda poco tempo fa, di Coliandro, quando ancora c'era un lockdown abbastanza duro. E la nostra domanda, la domanda della produzione, oltre che dei registi, era, ce le mettiamo o no le mascherine? Cioè dobbiamo scrivere di un Coliandro X, ambientato o prima o dopo, speriamo, più avanti, che si comporta come ci comportavamo prima e speriamo dopo, oppure invece dobbiamo connotarlo storicamente e fare un Coliandro che invece porta la mascherina. Ma non solo porta la mascherina, perché allora pensavamo, se noi a un certo punto inquadriamo Coliandro nella piazza di Bologna e poi giriamo e prendiamo la gente che sta attorno, il pubblico normale che sta passando di lì, ma non solo i figuranti che abbiamo chiamato gente, perché loro le rubano molto i manetti, le inquadrature, questi avranno tutti la mascherina. E chi ci vedrà tra un po' di anni dirà perché quelli hanno la mascherina, che è successo? Sono turisti giapponesi, è scoppiato qualcosa, come mai sono così? Ma non solo, questa cosa qui, ambientarlo in quel momento lì allora, avrebbe cambiato la narrazione, perché Coliandro non poteva suonare un campanello, aprire e dire, senta un po', devo fare le due domande, no? Doveva prenotarsi praticamente, incontrare da remoto, trovarsi in un ufficio in smart working, dove parla con il tizio, ma parla attraverso un computer, perché così era la realtà di allora, no? In macchine in cui non puoi stare in più persone, no? E tutti con la mascherina. E allora abbiamo deciso di saltarla questa cosa, perché sarebbe stata connotata storicamente, è come scrivere un romanzo ambientato durante il periodo fascista. La gente ha la camicia nera e fa il saluto romano. Non è che fai altre cose, fa quella cosa lì. E se uno da fuori legge quella cosa lì, si chiede come mai e sa che è ambientato in quel momento lì. Allora io ho pensato all'inizio, quando cominciavo a pensare a questa storia, serial killer, Bologna, Bologna notturno, ho pensato, però sarebbe bello ambientarla proprio nel periodo più duro del lockdown, che è una cosa che ancora non c'è stata. C'è qualche romanzo che ha raccontato, no? quel momento, ma per raccontare proprio quel momento lì. A me invece piaceva l'idea di avere uno sfondo totalmente strano. Provate a pensare, Bologna deserta. E allora l'ho chiesto un serial killer, si aggira in una Bologna deserta e spettrale come per un'invasione di zombie. Fantastico, ho pensato. L'ho chiesto al mio amico tassista, che è uno dei protagonisti del libro, che esiste davvero. E mentre ero con lui gli ho detto, senti un po', voglio scrivere una storia ambientata a Bologna durante il lockdown. E lui mi ha detto, non si può. Perché? Perché non c'era nessuno in giro. Non è possibile. Il serial killer tuo lo beccano nei primi venti minuti, per forza. Ma più che altro fa anche fatica a trovare qualcuno da ammazzare. E fa fatica a trovare qualcuno da ammazzare. Non esiste proprio, era tutto diverso. Allora io ho detto, vabbè. E allora? Poi mi è venuta in mente l'idea, è partita la scrittura, in un periodo più recente come questo. Il mio libro è ambientato adesso proprio. Credo che qualche data ci sia dentro. Forse l'ho tolta dopo, ma era novembre, 19 novembre era la data in cui avvengono le cose. Cioè adesso. Adesso viviamo in un momento, e speriamo che continui e non cambi, naturalmente, ma adesso un pochino prima, quando scrivevo io due mesi fa, vivevamo in un momento in cui questa cosa qui era meno invadente. Poteva essere trattata come un normale sfondo. In Almost Blue, per esempio, non ci sono delle cose che ci sono nei romanzi successivi, perché ancora non le usavamo. Ci sono i cellulari diversi. Non c'è il computer. Poi ci sono i social. Poi più avanti, in un prossimo libro, non ci saranno i social, ci sarà un'altra cosa. Sono delle cose che fanno un po' da sfondo. Allora lì ci sono persone con la mascherina in un contesto di persone che poi non la portano anche. Sono in ufficio, se la sono tolta a tutti. Non è che sono così legato. E infatti ogni tanto me ne dimenticavo anch'io. E so di persone che hanno letto quel libro notando che c'era la mascherina soltanto molto più avanti, mentre io la nomino, come hai fatto vedere, nelle prime cinque righe. Quindi sì, mi sono sentito di scrivere quello che c'è, quello che c'era. Perché in questi romanzi, soprattutto, a me piace metterci dentro le cose che ci sono davvero. Mi piace in questo gioco, tra lettore e scrittore, per cui uno va in via rimorsella e dice ma davvero c'è la grata lì? Sì, è certo. Sono andato lì a vederla e ho scritto esattamente quella grata lì. O incontra uno dei personaggi e dice ma tu esisti davvero? Sì. E questo è il bello, rubare alla realtà e buttarla dentro. Allora, io mi sono segnato qui un capitolo che si intitola Cose che Lucarelli fa molto bene. Allora, beh, una cosa che tu fai molto bene e che chi ti legge sicuramente apprezza, è uno dei motivi per cui i tuoi libri li legge e continua a leggere, è che tu scrivi in maniera apparentemente semplice, ma per accumulo, dopo un po', questa scrittura semplice crea uno sfondo e uno scenario che è estremamente complesso, sia dal punto di vista della trama che dal punto di vista, diciamo così, delle dinamiche emotive dei personaggi. E questa è una cosa molto difficile da ottenere. cioè io conosco pochi scrittori che riescono a farlo, cioè ci sono scrittori che scrivono molto alto, complesso e arrivano lì. Ma qualcuno che, come dire, ha un entry level di partenza che tu entri e dici beh, questa cosa me lo leggo in cinque minuti, poi però comincia a capire che dietro questa semplicità c'è nascosta molti doppi fondi. e credo che abbia a che fare con una dimensione anche pop della tua scrittura che tu non nascondi per nulla perché poi ci sono delle citazioni dentro, davvero tu butti dentro probabilmente tutte le cose che ti piacciono e c'è Il silenzio degli innocenti ma c'è anche South Park ma c'è Elton John cioè c'è davvero un frullatore dove tu riesci a distillare tutto ciò che ti piace. Ma questa è una cosa con cui tu sei partito quando hai cominciato a scrivere oppure col tempo hai imparato a farla in maniera così pulita cioè è proprio una cosa della tua indole della scrittura sin dall'inizio? Allora grazie della considerazione che adesso ci penserò ovviamente se veramente secondo me è qualcosa che è venuta fuori piano piano perché me la spiego così con due cose una è questa quella sulla semplicità quando ho scritto il primo romanzo Carta Bianca avevo in mente una cosa che avevo letto una prefazione di un romanzo di Jim Thompson in cui lui diceva è difficile far capire che cosa pensa un personaggio è difficile dirlo facciamolo agire facciamolo parlare si capisce da sé e così avevo scritto quel romanzo lì senza metterci praticamente aggettivi De Luca annuisce oppure parla non è che dice annui amaramente non lo so toglievo tutto fa tre o quattro gesti e sono quelli e la trama anche volevo che fosse abbastanza semplice in un certo senso lo era una serie di azioni di dialoghi che arrivano fino a un certo punto non ho fatto così e non l'ho fatto neanche in De Luca per un motivo credo molto semplice che è questo uso un termine tecnico di narrativologia che io quando sono a metà della storia che sto scrivendo mi incasino ma mi incasino proprio cioè mi ci perdo perché tutte le volte penso di voler scrivere con un certo tipo di stile con soprattutto un certo tipo di storia con una trama un po' definita e poi mi accorgo che invece succede un casino allora magari voglio essere così semplice e diventa tutto più complicato perché le cose si complicano perché i personaggi non fanno esattamente quello che avevo pensato io e la storia non va dove credevo di andare io e scopro un sacco di cose che sono delle cose che scopro in quel momento praticamente perché credo che succeda a tutti gli scrittori quando scriviamo una storia diventiamo una specie di come dire di pipistrelli hai le orecchie becchi tutto quello che sta succedendo in quel momento sei sensibile a quella cosa roba che magari prima non avresti neanche notato in quel momento lì ting entra dentro per dire a un certo punto entra dentro non vi dico come una cosa che c'entra con Elton John e soprattutto col suo percussionista che si chiama Ray Cooper entra dentro non perché ci avessi pensato adesso arriva Ray Cooper no no perché mentre stavo guardando un po' di cose su Youtube perché cercavo delle cose musicali tac becco un pezzettino di un concerto che Elton John fece a Leningrado che io avevo visto quando ero ragazzino non il concerto ma delle immagini su quel concerto lì e in cui c'è Ray Cooper che viene fuori dal buio si accendono le luci batte sulle percussioni poi si gira da una parte e fa un sorriso e quello lì è diabolico quella scintilla lì era diabolico gli si diventano bianchi tutti gli occhi e questo sorriso qui è un percussionista molto teatrale allora quando l'ho rivista su Youtube boom mi esplosa l'avessi vista non so una settimana prima di cominciare a scrivere il libro era oh guarda Elton John mi ricordo sì poi io non sono neanche un appassionato di Elton John l'avrei dimenticato in quel momento lì bam ha cambiato il libro e allora è così che succede mi incasino le cose diventano complesse perché per me sarebbero semplici all'inizio quando scrivo in realtà poi diventano complesse dopo secondo me se riesco a farle funzionare è per una storia come dire una sorta di istinto ritmico senti è come se suoni jazz io immagino non so suonare non suono jazz però immagino sei lì che improvvisi le cose prendono una piega e tu c'hai l'orecchio per dire ecco stanno andando qua adesso è giusto finire e passare ad un'altra ad un'altra melodia se funziona è così il giorno che non funzionerà più allora ci rivedremo e direi questo è l'ultimo libro di Lucarelli perché non lo vorranno più pubblicare altra cosa che tu sai fare molto bene e lo fai bene da sempre è questo vi leggo poche righe per darvi proprio un'idea allora siamo alla seconda pagina del libro quindi ci sono questi due carabinieri che entrano in questo appartamento dove è successo qualcosa di molto brutto ma non sanno se è una cosa che è successa ed è finita e siamo tranquilli oppure sta succedendo e quindi siamo ancora nel pieno del pericolo per cui si muovono con molta circospezione gli hanno detto che le abitazioni della residenza sono tutte uguali una fila di casette a schiera ricavate dai padiglioni del vecchio manicomio di Imola quando l'hanno dismesso è vero una camera da letto a destra una a sinistra e il bagno in fondo al corridoio la camera a destra porta aperta vuota basta un'occhiata niente armadio e il letto è troppo basso perché qualcuno ci si nasconda sotto quella a sinistra porta socchiusa la apre l'altro carabiniere con la mano libera e deve forzare perché per terra c'è qualcosa che la trattiene che cos'è? eh? è soltanto il tappeto che si è arricciato sotto lo stipendio che schifoso che è questa roba qua e poi c'è un armadio e ci sono due letti appaiati ma nell'armadio ci sono solo vestiti e anche qui i letti sono troppo bassi il bagno in fondo invece è chiuso chiuso a chiave chiave che non è nella toppa ecco qui sono dieci righe hai appena iniziato e c'hai già l'amo conficcato in fondo che tu puoi divincolarti fare tutto quello che vuoi ma lui intanto è lì col murinello che tira su e tu vai ecco questa capacità di riprodurre come dire la tensione ok beh questa è una cosa che io trovo che tu hai sempre ed è molto difficile perché poi come sempre quando la vedi fare dici ah beh certo ah sì non è il corpo è il tappeto andiamo avanti ok però in realtà creare in chi legge con lo stato d'animo per cui stai lì a dire ah è quella no è quell'altro allora andiamo avanti l'armadio allora l'armadio no solo i vestiti e poi c'è il bagno e il bagno è chiuso tu in un attimo sei lì e sei come dire esattamente come se avessi una telecamera che sono gli occhi di questi due carabinieri e stai cercando insieme a loro e te la fai sotto esattamente come 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 accade a loro sta roba qui questa è una cosa un po' studiata naturalmente perché mica l'ho inventata io e naturalmente ci sono i grandi maestri del genere di un certo modo di raccontare certe cose che l'hanno fatta e che noi abbiamo studiato letto guardato benissimo in parte e anche in un certo senso non dico istintiva però fa parte del tuo modo di sentire le cose è l'orecchio che hai per suonare una certa cosa se no ne suoneresti un'altra e a me è sempre piaciuta questa cosa qui i libri che ho letto con più gusto sono quelli che iniziano in un modo inquietante misterioso e non ti dicono tutto subito poi sta lì a dosare il non detto tutto subito io ho due cose per spiegarlo e chi le ha già sentite mi scuserà che è questa perché tu dici da dove viene fuori un po' è istintivo allora la dico così i narratori si riconoscono perché sono quei bambini che tornano a casa da scuola e raccontano tutto quello che è successo a scuola e che ha fatto la maestra se non è una cosa che va sul giornale è una noia che ha fatto oggi la maestra Gigino ha vomitato un altro aveva dimenticato il quaderno quelle robe lì i bambini arrivano e come io ero così e raccontano tutta sta roba i genitori sviluppano un'abilità trasversale nel dialogare tra di loro sulla testa del bambino per cui gli dicono davvero e poi cosa facciamo domani andiamo là la spesa chi la fa eccetera eccetera basta che quando senti che il bambino cala con l'intensità della voce ti giri e gli dici davvero lui ricomincia e tu riparti certi bambini e qui siamo noi se ne accorgono e quando tornano a casa da scuola dicono non immaginerete mai cosa ha fatto oggi la maestra i genitori dicono cosa perché magari si immaginano quella roba che va sul giornale niente piripi piripi uguale perché non ha fatto niente la maestra però è questa cosa qui questo no è quello che noi ci mettiamo è il nostro modo di raccontare le cose e lo leggo ad un'altra roba anche qui chi l'ha già sentita mi scuserà che è la storia del gattino e del cagnolino che ho capito dopo che cosa significa cosa stiamo facendo e cosa faccio io a volte ripeto istintivamente un po' di anni fa io ho due bambine che hanno dieci anni adesso però un po' di anni fa quando erano ancora piccoline le portavo a letto e volevano che gli raccontassi una storia e io gli raccontavo una storia e così si addormentavano alle due di notte aspetta aspetta ovvio che non gli raccontavo una delle mie storie no perché primo devo farle dormire prima delle due di notte secondo voglio dire è un investimento ci devo convivere per un bel po' di anni cosa faccio allevo due serial killer potenziali lasciamo stare allora io gli raccontavo una storia che di solito aveva come trama un gattino incontra un cagnolino fanno la papa e fanno la nanna questa è la storia capito ero lì con tutte le due bimbe abbracciate nel buio e a un certo punto una delle due mi dice basta babbo perché ci fai paura come vi faccio paura il gattino mi hanno detto sì perché fai quella voce allora istintivamente io dicevo c'è un gattino incontra un cagnolino ecco questa cosa qui è quella roba lì che dici tu è il nostro modo di raccontare il mio modo è quello lì dovessi raccontarvi una storia d'amore tra un uomo che incontra una donna io partirei come la sposa era in nero c'è un uomo fermo sotto un lampione è buio vede avvicinarsi una persona ma cosa succede dopo niente si sposano però mi viene da raccontarla così ecco quella cosa lì io parto tu diresti vede avvicinarsi una donna lasciamoli lì e andiamo ma questo era esattamente quello che io ho fatto nella trasmissione questo si riduce si condensa nell'imitazione che mi faceva Fabio De Luigi paura è quella cosa lì mai nella mia vita ho detto paura è in trasmissione ma ci manchera sono mica scemo non so raccontarvi delle storie terribili poi faccio paura però quello davvero però ha ragione lui perché quella è la logica della caricatura la caricatura di uno che ha un naso importante però il caricaturista te lo fa con un nasone così ecco quella era la mia logica perché io arrivo e che vi dico adesso vi racconto di un crack finanziario oh vabbè no c'è un uomo si chiama Sindona beve un caffè urla ma l'ha avvelenato tu dici oddio che è successo paura è sì allora andiamo seguite che è una cosa vabbè dopo lì entro negli aneddoti ma mi fermo subito che a me francamente ha cambiato la vita all'inizio lo facevo in maniera abbastanza istintiva dopo ho cominciato a studiarlo ma ha cambiato la vita c'è una parola che io non posso più usare che è paura ma non solo una volta siamo andati mi ricordo bellissima situazione alla Cineteca di Bologna quindi club con tutti i damsiani che studiavano il cinema quindi parliamo di un luogo serio e io devo presentare un maledetto imbroglio di Pietro Germi e sono lì e prima faccio un discorsone sono tutti seri sono tutti no voglio dire studenti del dams tutti agguerriti quindi già io sono lì che non faccio cinema come per chi è questo qua quindi devo fare il serio e allora gli raccontiamo tutti no perché il noir com'è la nuova letteratura sociale gadda tutto un lavoro poi ci sediamo tutti un silenzio di tomba pum bianco e nero no il proiettore Germi interroga uno dei sospettati e gli dice dove era lei il giorno tal dei tali ero laggiù cosa ha fatto poi dopo è stato lei vero e questo qua dice io no e Germi fa paura cioè il commissario in gravallo fa proprio così paura boom esplosi il cinema abbiamo dovuto fermare hanno spento la proiezione io ho dovuto fare ha 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 quindi vedi paura beh però si può si può utilizzare quello quello sketch insomma altra cosa che tu fai molto bene in maniera impavida e questo libro è pieno soprattutto nella seconda parte di questa cosa che secondo me diciamo i giallisti gli scrittori di crime thriller italiani sono sempre un po' qui ci sono delle scene d'azione cioè qua c'è proprio avete presente film americano che non si tira indietro quando due devono fare a botte c'è uno scontro a fuoco c'è una lotta fisica qui ci sono un soffocamento ok quella roba lì anche la leggi e dici perfettamente incredibile perché nella tua testa si forma subito l'immagine di molto cinema che hai visto un cinema che questa questa lotta diciamo questa conflittualità fisica la rende molto bene però anche lì come come succedeva per il tappeto cadavere eccetera beh ma rendere la cosa scrittura non è affatto semplice ma questa cosa che questo sia un romanzo molto fisico dove a un certo punto questi corpi si scontrano davvero non dovete pensare al vecchio Sherlock Holmes che stava nello studio diceva ah ecco è quello lì ma piuttosto al nuovo Sherlock Holmes quello di Guy Ritchie che è tutta un'altra fisicità beh sì è vero allora sono sempre state così un po' le storie con Grazia Negro soprattutto Olmos Blu che aveva a che fare con Liguana che era uno che faceva cose molto violente però questa cosa dei dettagli o di un certo tipo di come dici te fatta così con come dire senza pensarci più di tanto appartiene più a questi ultimi libri perché quando ho scritto Olmos Blu per esempio era un periodo in cui c'era parecchio sangue nelle storie che scrivevamo e siccome io non volevo sembrare proprio uno di quelli che appunto butta i sangue assecchiate sangue assecchiate come si faceva nei certi romanzi americani mi sono imposto di non usare mai la parola sangue per tutto il libro se voi guardate io ho fatto cerca trovano con Word la parola sangue c'è nella prima riga del primo capitolo poi dopo basta la violenza non si vede che però c'è c'è tanto anzi nella cosa e dopo ho continuato a scrivere e ho cominciato a mettere dettagli e questa cosa qui di usare i dettagli della narrazione ma anche dettagli che io l'ho fatto apposta quindi spero che siano disturbanti che a me hanno disturbato perché siamo abituati ad una violenza che è poco disturbante anche quando è violenta questi cazzotti per cui ci sono anche schizzi cose così ma poi alla fine non fanno niente sono un modo di vedere la violenza invece lì c'erano due o tre cose che mi davano fastidio mentre le stavo scrivendo e questa cosa qui io l'ho imparata dopo e l'ho imparata con le sceneggiature è coliandro questa cosa qua perché coliandro quando scrivi sceneggiature come coliandro l'ispettore coliandro che sono anche lì molto fisiche molto di azione e le scrivi per dei registi con una fortissima personalità come i manetti fai presto a vederti quello che hai scritto fatto in tutt'altro modo allora io e Gian Piero Rigosi cerchiamo di incastrare gesto per gesto dettaglio per dettaglio perché vogliamo vederla così in modo da obbligarli a fare esattamente quello che abbiamo scritto noi e questo ci ha portato e mi ha portato a studiare tutto quello che c'è nella dinamica dell'azione che non è semplicemente gli tiro un pugno che va bene quando non è bisogno di dire altro va benissimo quello ma se vuoi che quella cosa lì sia disturbante o ti faccia pensare a qualcos'altro o inizi una catena di azioni che poi sono parole che vanno a finire da un'altra parte allora devi pensare a cosa significa questa cosa qua e con Coliandro io e Gian Piero Rigosi lo facciamo quotidianamente noi quasi ci recitiamo tutte le scene tranne quelle di sesso perché non siamo i tipi l'uno dell'altro ma potremmo fare anche quelle però perché stiamo lì proprio a studiarle cosa fa? si abbassa e schiva il colpo che vuol dire? come funziona questa cosa? cioè la fisicità dei corpi come hai detto a te diventa anche quella lì un pezzettino dell'affresco che stai facendo è una pennellata di quello che stai disegnando uno dei tuoi personaggi l'hai citato prima è un tassista Bologna 5 mi sembra si chiami la sua sigla che poi hai detto è un tassista che tu conosci cioè hai ispirato un personaggio reale e c'è un momento in cui noi lo incontriamo lui lavora quasi sempre di notte perché gli piace la città di notte e lui si fa delle specie di video dei selfie insomma Twitter insomma è uno che posta e parla anche in questi video e c'è un momento in cui lui dice però c'è un silenzio lì nel cuore di Bologna solo lui nel posteggio e l'aria è così morbida che non se la sente di fare il cretino ci vorrebbe una riflessione seria mica tanto è giusto un po' qualcosa su Bologna perché in quel momento è la sua città che gli è venuta in mente e si è sentito un pizzico di tenerezza dentro e poi dopo dirà perché Bologna è la città che io amo e questo libro come molti altri tuoi è anche come dire una canzone d'amore per Bologna siccome io sono anche innamorato di una città che non è Bologna che non conosco ma è Torino però volevo chiederti cos'è questo amore per la città cioè queste storie potrebbero essere dislocate cioè potrebbero essere trasferite in altre in altre città allora questa è una cosa che ci siamo chiesti in un altro mi ricordo un altro discorso che era questo ma potresti scrivere questa cosa qui ambientata da un'altra parte sì ma non l'avrei scritta io poteva essere ambientata a Torino sì ma la scrivevi te non io io scrivo delle storie ambientate a Bologna perché sono le storie che scrivo io e il fatto che le ambienti a Bologna me le fa scrivere come le scrivo io quindi certo che voglio dire Bologna è diventato una specie di simbolo per noi una specie di laboratorio narrativo non succedono queste cose a Bologna molte delle cose che io ho scritto che mettiamo dentro coliandro non ci sono a Bologna però Bologna come la vediamo noi noi scrittori di quella città ha due o tre cose uno per noi per me e lo so che sto dicendo una sciocchezza che gli altri mi diranno ma va là è la città più bella del mondo perché è questa fossotta di amore che dicevi e quindi mi piace scrivere di quella cosa lì scopro tutte le volte una sfumatura un angolino diverso e quindi mi piace metterci dentro le cose non solo è una città che sta al centro dell'Italia e lì dentro succedono un sacco di cose che hanno a fare con il resto dell'Italia anche se non ce ne accorgiamo e poi noi abbiamo in mente la famosa città regione che diceva Tondelli che diceva parafrasandolo male siamo gente che lavora a Bologna dorme a Modena e va a ballare a Rimini ecco questa cosa qui ti permette di usare una metropoli tipo una specie di Los Angeles bellissima secondo me è piena di contraddizioni quindi a me va bene Bologna non solo perché non conoscerei Torino ma perché conosco queste cose di Bologna e quindi in questo caso qui però è un po' diversa che negli altri libri perché negli altri libri sia quelli ambientati durante il fascismo dove quella era la Bologna bombardata per esempio e quindi aveva un senso in quanto quel tipo di Bologna lì che raccontava un pezzo di Italia nei libri di Grazia Negro io ho sempre cercato di raccontare dei momenti in cui cercavo di scoprire non voglio dire che erano veri però insomma mi pareva di capire dei momenti particolari di Bologna delle sue trasformazioni come si chiama Il sogno di volare che è l'ultimo romanzo di Grazia Negro prima di questo lì c'è una Bologna arrabbiata del periodo in cui siamo stati continuiamo adesso ma una volta eravamo in maniera più palese arrabbiati proprio tutti arrabbiati per qualcosa io ho finito di scrivere quel romanzo là il giorno in cui quel tizio se lo ricordate perché sono cose che noi dimentichiamo con grande fretta era andato davanti al Parlamento per sparare un politico non li ha trovati ha sparato due carabinieri perché? Per rabbia perché ce l'aveva con qualcuno ecco e prima la Bologna che si trasforma poi prima ancora in Olmos Blu la Bologna è piena di contraddizioni qui avevo in mente un'idea ho in mente un'idea di Bologna della nuova Bologna intanto sembra che stiamo al limite cioè al limitare di una nuova Italia no? stiamo dicendo uh cambieremo chissà cosa faremo ci potrebbe essere un grande entusiasmo assieme alla grande rabbia arriveranno un sacco di soldi cambierà tutto Bologna è la stessa cosa c'è un sindaco nuovo ci saranno un sacco di soldi cosa diventerà Bologna? io sono ottimista sono sicuro che diventerà la città più bella del mondo ma questo lì dentro non ci stava non riuscivo a scrivercelo perché questa storia qui si svolge quasi tutta in case protette in case nascoste e nella testa della gente dei personaggi Bologna non c'era proprio non ci sarebbe stata ce l'ho messa perché sono andato a prendermi il mio amico tassista che appunto esiste davvero io ogni tanto rubo personaggi e li infilo dentro Roberto esiste guida Bologna 5 e fa le cose non fa proprio quelle cose lì fa le cose con quello spirito lì è un personaggio grande che quando l'ho visto l'ho conosciuto la prima volta ho detto accidenti te dovresti essere un personaggio di un libro dopo un po' ho pensato ce lo metto proprio sei un personaggio di un libro ed è lui quello che porta in giro per Bologna e fa qualche riflessione sulla Bologna che vede che è ancora una Bologna misteriosa per me cioè mi sto chiedendo lì che Bologna ci sarà fra qualche mese e non lo so questo è arrivato arrivato per posso solo dire che sarà bellissima perché sono ottimista ovviamente verso la fine del libro uno dei personaggi che si chiama Anna Maria che è una psicologa no forse qualcosa di più criminologa insomma fa un piccolo riassunto per se stessa in realtà fra le tipologie dei serial killer e io leggendo questo riassunto ho pensato che queste diciamo queste categorie potrebbero essere applicate tranquillamente agli scrittori e allora ti chiedo intanto c'è diciamo una macro divisione tra i serial killer e quindi gli scrittori tra organizzati e disorganizzati tu sei scrittore organizzato o disorganizzato? disorganizzato già prima mi hai dato quindi tu non fai la scaletta come me prima io ho due o tre idee che appiccico come post-it più grossi sulla porta del mio bagno dalla parte dello studio ovviamente non ho detto il bagno che sennò dopo quando fai la doccia si scioglie e li attacco lì dove ci sono un po' di cose tipo grazie a vorrei che forse così è una storia di donne e succede questo succede là ma sono lì poi c'ho l'inizio punto queste cose qua grazie appena partorito due gemelline è contenta perché ha fatto quello che voleva fare gliele portano via poi portano via anche lei perché? perché è scappato l'iguana oddio via tutti avevo queste cose qua il resto non ne ho idea proprio non lo so lo scrivo e mano a mano che lo scrivo lo scrivo su altri post-it più piccoli e lo attacco sulla porta del bagno infila per capire dove sto andando se no mi incasinerei ancora di più ed è quello che succede disorganizzatissimo sono l'equivalente dello spree killer che è quello che ammazza a caso ecco io sono uno spree writer vedo che in sala c'è qualche mio studente della olden non dovete fare così se non siete lucarelli non fate così il mondo degli scrittori si divide faccio la scaletta non faccio la scaletta Giampiero Rigosi che fa più della scaletta Giampiero Rigosi l'ho visto una volta sembra la questura c'ha delle cartelline color panna come sono quelle che ho visto in questura a volte dove ci sono i dossier dei personaggi lui sa che mestiere ha fatto la mamma del personaggio di cui sta scrivendo e non entra nel libro sta cosa proprio non c'è ma lui lo deve sapere quindi va benissimo capisci benissimo però convivete insomma convivete scrivete assieme si siamo arrivati ad una specie di equilibrio la prima volta che scrivevamo con Leandro dicevo bella sta scena lui va prende la macchina e scappa e dove va non lo so intanto la scriviamo no come la scriviamo e dove va dopo ma non lo so scriviamo è bellissima cosa vuoi che la dimentichiamo ecco sono due cose diverse ok poi diciamo dopo questa ripartizione ci sono alcune categorie che sono i visionari i missionari i serial killer per libidine gli edonisti e i power oriented cioè ossessionati dal controllo ecco tu che tipo di scrittore sei? allora e questo è difficile se vuoi te le ridico visionari si ci sono i visionari i missionari puoi anche essere un po' no io sono tutti contemporaneamente credo che siamo tutti contemporaneamente la stessa cosa perché scrivi perché ti piace il controllo su quello che stai facendo anche se scopri che non stai controllando niente perché la roba va come gli pare a lei ma è quello che succede poi fortunatamente te sei lì al killer lo scrivi anche per libidine nel senso che ti piace sei lì che è una cosa che non potresti farne a meno lo scrivi perché è missionario hai voglia di ripulire il mondo tra virgolette cioè hai voglia di scriverla perché questa cosa qui migliori il mondo loro sono distorti è chiaro noi stavo per dire non ammazziamo nessuno no ammazziamo un sacco di gente che noi guarda però sulla carta quindi non facciamo senza far male a nessuno però secondo me siamo veramente tutti insieme tu sei qualcosa di particolare? di solito quando non mi pongo questo problema quando posso porlo a un altro diciamo ecco però secondo me per libidine ed edonista molto sì sì l'ultima cosa a cui ho accennato dicendo noi ammazziamo sulla carta ammazziamo mi ha fatto venire in mente che cioè come tu sei evidentemente molto documentato quando quando parli di criminalità perché hai lavorato per la cronaca nera perché hai contatti con persone che lavorano in quell'ambiente dalla scientifica agli inquirenti eccetera anch'io avevo qui a Torino un un caro amico che lavorava alla scientifica e che mi è stato molto utile in alcuni frangenti e lui però a un sottopunto della sua carriera aveva anche una posizione insomma di rilievo una scientifica di Torino ha avuto dei figli insomma e a un certo punto ha detto no basta polizia ferroviaria c'era tutto uffici tutta un'altra cosa perché a un certo punto ha detto non riuscivo più no l'ha fatto per 15 anni magari non riuscivo più tornavo a casa la sera e se erano i miei figli lì a tavola ci sedevamo ma io arrivavo da posti dove avevo visto ecco a te questa cosa beh tu ovviamente noi lavoriamo sulla carta ma tu ti occupi di come di crimine e di menti più o meno di gatti da moltissimo tempo ecco tu non hai mai avuto come dire una crisi di 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 rigetto anche perché tu appunto sei diventato papà anche tu certo riesci a tenere separati i due mondi è complessa la risposta devo dire adesso ci arrivo sono tre cose secondo me una è questa è vero noi dobbiamo essere competenti di alcune cose non basta che scrivi così c'è stato un omicidio hanno sparato a uno e poi scopriamo che è stato quello lì dal bossolo e dalle impronte sul bossolo e finisce lì devi essere competente se no è banale la storia che vi ho appena detto cioè devi frequentare vedere guardare io l'ho fatto come scrittore di romanzi ma l'ho fatto anche quando facevo blu notte i casi di cronaca che era un programma che facevo una volta e lì andavo in giro con la polizia scientifica raccontando casi molto vecchi però riguardandoli e allora lì dovevo vedere le fotografie che non è bello vedere parlare con la mamma della ragazza uccisa che è una cosa ovviamente cioè farmi coinvolgere emotivamente in maniera proprio molto disturbante quella cosa lì l'ho fatta per un po' di tempo di stare dentro la realtà raccontando queste piccole cose e ad un certo punto non ce l'ho fatta più siamo passati a raccontare altre storie non più i casi di cronaca ma quelli storici cioè Piazza Fontana per esempio gli stragismo la mafia che sono altrettanto coinvolgenti ci mancherebbe però non era più il mestiere quasi da poliziotto che potevo fare allora di averci un male che è un male che lo tocchi perché parli con una persona che potrebbe anche essere stato lui io lì ho avuto davvero una crisi di rigetto non mi sono più occupato direttamente di cronaca nera anche perché c'è stato un periodo in cui c'era anche adesso c'è ma allora era terribile un eccesso di cronaca nera in quel periodo lì tutte le volte che succedeva qualcosa ti telefonavo un giornalista e ti chiedeva un pezzo ti chiedeva un parere su quello che era successo tipo appena stato una strage così dicevo oddio quando è successa non leggo i giornali no due ore fa come due ore fa cosa ne so te la racconto io ma no ma come fai a raccontarmi cosa è successo cosa ne sai te niente neanch'io posso farti una domanda sì secondo te chi è stato ecco questa roba qua mi aveva un po' ho detto vabbè io mi occupo di queste cose nei libri ho avuto sempre una frequentazione molto assidua con la polizia dal primo romanzo che ho scritto poliziesco che era Coliandro mi ricordo Coliandro era molto critico nei confronti della polizia un giorno sono a fare una presentazione c'è Loriano Machiavelli che conosce meglio i poliziotti mi dice adesso sono a fare i tuoi sono tutti poliziotti infatti sono arrivati mi hanno detto hai scritto un sacco di cavolate però due o tre cose le hai azzeccate frequenta un po' noi così almeno voi scrittori di giallo scrivete le cose che facciamo veramente quindi per un bel po' le ho frequentate è un po' che non li frequento sono rimasto indietro qui non ho avuto bisogno di essere così tecnico così scientifico ci sono scrittori appunto come hai detto te ma altri che conosco che ne sanno molto di più della polizia su come si fanno le indagini quasi lì non ho avuto bisogno o avevo quello che mi serviva però tutta questa cosa qui te la porti a casa anche se non scrivi di morti ammazzati veri perché in effetti stai lì dentro sai cosa vuol dire sei lì questi sono personaggi inventati però me li sono tenuti lì per un sacco di tempo quando gli succede qualcosa a quei personaggi lì mi scoccia e mi chiedo ma perché gli devo far fare questa cosa qui a questo qua che mi piace perché la storia vuole quello perché la vita è brutta la vita lì dentro e allora ecco che poi come queste robe te le porti dietro perché capisco che siamo un po' particolari e adesso ti do la risposta perché noi abbiamo una sorta di schizofrenia assurda per cui quando le bambine ai tempi della no del cagnolino e del gattino mi ricordo io sto nel mio studio che sta un piano di sopra a scrivere morti ammazzati sbudellati terribili queste cose qua poi sotto sentivo babbo orca misera dovevo andare giù e stavo un quarto d'ora sdraiato per terra sul tappeto ad attaccare cucciolotti sul coso e poi dopo tornavo su morti ammazzati sbudellati passavo da da Stephen King a Walt Disney nello spazio di una rampa di scale che era questa roba qua uno dice poi te la porti dietro allora qui ho le mie due risposte una è questa un giorno mi sono arrivati dei libri che avevo ordinato da qualche parte ed ero proprio felice che mi fossero arrivati oh li aspettavo da tanto tempo allora sono andato nella mia libreria che è grande per fortuna posso dividere i libri per categorie con gli scaffali e c'era anche mia moglie e gli ho detto oh sono arrivati i libri che cercavo guarda e li mettevo dentro li mettevo nello scaffale intitolato violenza, tortura e morte e mia moglie mi ha guardato e ha detto ma io chi ho sposato io ho detto cavolo hai ragione la risposta a tutto questo e qui chiudo viene proprio da una cosa fatta alla scuola Holden un giorno mi metto a ragionare la scuola Holden era sulle tecniche del giallo mi era venuto in mente questo perché qualche giorno prima per una ricerca avevo letto uno di quei manuali della CIA si chiamano fail manual una cosa del genere hanno un nome anche che sono quelli che servono per torturare la gente i prigionieri sapete waterboarding tutte quelle robe lì Guantanamo questa roba qua abbiamo ragionato che noi facciamo esattamente la stessa cosa me e te non è che alla gente sospensione noi facciamo deprivazione sensoriale cioè il nostro prigioniero si ritrova nel buio nel silenzio più totale senza sapere più chi è dov'è e privo di qualunque aiuto gli possiamo dare esattamente come fanno loro ci manca il waterboarding perché non possiamo farlo fisicamente sennò verrei a casa vostra e vi metterei la testa dentro un cattino probabilmente siamo così allora la domanda è perché lo facciamo che gente siamo noi e qui chiudiamo la nostra presentazione perché si è fatto tardi no c'è la risposta la risposta che diamo noi sempre che davamo prima era perché siamo il nuovo romanzo sociale è un lavoro che qualcuno deve fare non fareste la stessa domanda a un carabiniere o a uno psichiatra no che gente sei siamo questi e anche noi no poi mi sono dato una risposta perché siamo cattivi è solo qui quindi come convivi con quelle cose ci convivo sono cattivo e anche te allora ti faccio ancora un'ultima domanda perché è proprio una mia curiosità fortissima poi non so se è previsto domande del pubblico non lo so comunque magari lasciamo un po' di se ti fa piacere lasciamo un po' di spazio tu hai citato Blue Note allora io penso che qui siamo molti che sono innamorati di quella di quella trasmissione e diciamo di tutte trasmissioni satellite a quella che tu hai hai costruito io adesso ancora quando vado a correre ogni tanto ascolto i podcast perché poi sinceramente ne sono nati moltissimi sull'onda del successo però devo dire che poi magari tu mi consiglierai ma io non ne ho trovato nessuno diciamo costruito bene così con quella cura eccetera e questo è un grande peccato ovviamente ci stiamo tutti ancora chiedendo ma che cazzo ha fatto la Rai perché non lo fa più ma questa è una risposta che non so se ci vorrai dare però quello che ti chiedo invece è se ti dicessero Carlo vieni da noi puoi fare una sola puntata ok però puoi scegliere un caso scegli tu di che cosa vuoi parlare e puoi parlare di qualcosa che è successo in passato ma che non hai ancora affrontato oppure qualcosa che è successo da quando Blue Note non va più in onda ecco tu a che cosa ti cioè che cosa che ha stuzzicato la tua mente negli ultimi dieci anni insomma un milione di cose noi abbiamo raccontato i casi di cronaca ripeto li lascerei di nuovo lì perché non sono più neanche così come dire esperto quindi non lo so non è che non so nei casi invece gli altri casi che abbiamo raccontato i cosiddetti casi storici noi abbiamo fatto puntate che risalgono a 15 anni fa anche di più sono successi un sacco di cose nel frattempo su Ustica per esempio io ho fatto una puntata che ogni tanto viene utilizzata di nuovo come speciale tutte le volte che c'è l'anniversario ma è di 15 anni fa ho dovuto dire per forza cose che adesso non direi più perché sono state sono passate in giudicato ho fatto parlare a persone perché allora ci volevano un bilanciamento tra le varie ipotesi che adesso non farei più parlare così tanto perché ormai abbiamo dei gradi di giudizio che ci hanno detto è andata così quindi si parla d'altro si approfondisce di più tutti quei casi sono così allora io ho sempre usato sempre letto un caso per forza che è la strage di Bologna quindi se tu mi dicessi ho già fatto una puntata di nuovo per i 40 anni della strage ma se tu mi dicessi cosa voglio dire avendo tutto il tempo che voglio per farla Bologna perché c'è il processo in corso da cui sta venendo fuori un sacco di cose e questo sacco di cose devono essere raccontate perché fino adesso sappiamo quel poco che leggiamo sulla stampa ma da lì viene fuori un sacco di roba sull'Italia che eravamo che siamo stati e che corriamo il rischio di essere ancora Bologna lasciamo spazio alle domande del pubblico se c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa questa cosa che hai detto che siamo cattivi non ha proprio incoraggiato diciamo non ha proprio sciolto va bene mentre loro ci pensano invece ti chiedo una cosa io che che ho sempre trovato molto nei tuoi libri ma poi conoscendo anche te capisco anche perché cioè al di là del fatto che ci sono citazioni musicali ci sono proprio delle canzoni o delle strofe di canzoni che giocano un ruolo e questa è una cosa che molti autori fanno però è come se invece nel tuo caso spesso tutto nascesse da una musica e quindi come dire il tuo passato punk il tuo passato da musicista continua a essere quello che alimenta il motore della creatività cioè la musica o meglio i testi delle canzoni sono ancora per te un materiale così importante di partenza? sì sì non richiamerei il mio passato di musicista che non lo è era un punk perché non si poteva fare non è in grado di fare nient'altro allora è una vecchia battuta scusandomi per le categorie citate che poi sono bravissimi nei gruppi musicali di una volta quando ero piccolino io quindi insomma la metà tra gli anni 70 e 80 chi non sa suonare niente suonava il basso poi diventa bravo chi non sapeva suonare neanche quello canta cantava io cantavo quindi per dire non è quello la musica è importante per tutti noi come colonna sonora dai tempi delle radio libere che è diventata un pezzo della nostra vita e va benissimo in questi casi qui è diverso io l'ho usata la musica per altri motivi in altri momenti nei romanzi che scrivo ambientati nel periodo fascista la musica che arriva serve perché si sentiva si ascoltava ma soprattutto come dire caratterizza un periodo qui è diverso con Almost Blue io avevo in mente un pochino di trama avevo in mente un ragazzo non vedente che racconta la città attraverso i rumori che sente perché questa è una cosa che me l'ha successo una volta a Bologna e poi avevo in mente che questo ragazzo non vedente avrebbe sentito una voce ed era in grado di riconoscerla di un serial killer poi sapremo che è un serial killer e avrebbe sentito un'altra voce della poliziotta che invece gli piaceva e metteva insieme le cose questa è Almost Blue è l'inizio però manca tutto chi è lui chi è lei come faccio a farli incontrare allora ho pensato lui è uno che non vede ma racconta le cose a seconda di come le sente che cosa ascolta cosa racconta non ne ho idea come faccio a saperlo ho parlato con persone non vedenti un mio amico che ringrazio anche lì Paolo Giacomoni che è uno che mi ha spiegato un sacco di cose però non è che potevo scrivere lui prenderlo e metterlo lì perché lui faceva cose diverse allora ho pensato mettiamoci su un terreno comune io e Simone di che possiamo parlare noi due che si fa con le orecchie di musica non è vero è molto più complicata la cosa però all'inizio ho pensato così e poi ho detto e di che musica parlo con Simone e sono rimasto fermo senza sapere che cosa finché non ho sentito Almost Blue nella versione di Chet Becker e quando l'ho sentito è stata un'esplosione ecco di cosa parlo di quella perché di quella perché quell'atmosfera lì quelle parole lì quel modo di cantare di Chet Becker tutta quella roba lì era una chiave che aveva accordato tutto quello che volevo fare e lì sono entrato negli altri due romanzi l'ho cercata proprio sta cosa ho detto vediamo un po' e alla fine ho trovato due cose in questo romanzo qui è di nuovo successo così avevo in mente quella roba è scappato l'iguana grazie con le bambine e poi sapevo che Simone ricominciava a ripensare le cose attraverso altri sensi e poi buh poi mi succede che guardo X Factor pensate in casi della vita proprio sto guardando la tv tranquillo e rilassato e vedo i Melancolia che sono un gruppo musicale grido l'anno scorso due anni fa che fanno una canzone che si chiama Leon e da quello che ho visto dalla musica che ho sentito dagli atteggiamenti quella è stata la chiavetta tutto il resto si è accordato con quella cosa lì e allora è diventato non solo frasi di canzoni che uso come userei una poesia le sergono metto dei versi no sono diventati proprio un pezzo importante quella è un'altra canzone che ci ho messo dentro che è una canzone giapponese perché le mie bambine quelle famose là a un certo punto vengono da me un giorno e mi dicono sai noi ascoltiamo roba strana io dico avete dieci anni roba strana ero un punk avevo la cresta cosa dovete scherzare allora gli ho fatto una specie di rassegna di quello che ascoltavo io e loro mi hanno guardato come si guarda il nonno quando dice che ballava la mazzurca adesso è il girello e mi hanno fatto sentire cosa ascoltano loro e accidenti vabbè che gattino e cagnolino forse qualcosa gli ho lasciato perché ascoltano cose molto pesanti o cose come dire gentilmente pop come questa Lost Umbrella di questo vocaloide che sarebbe un programma strano giapponese che è di un inquietante micidiale perché quando io l'ho sentita mi sono sentito i brividi ho detto oddio adesso poi vedremo cosa ascoltano loro adesso devo ancora ascoltare sentirle bene e anche quella è entrata dentro non solo come versi ma proprio creando la personalità di alcune persone che stanno lì dentro quindi sì è importante domanda a qualcuno è venuto qualche curiosità? no? vi saluto raccontandovi un piccolo episodio per dirvi come dire la forza che ha Carlo come narratore noi ci siamo conosciuti nel 2001 per una ragione improbabile giocavamo a calcio tutti e due era nata questa nazionale di calcio scrittori insomma che esiste ancora adesso noi non giochiamo più per ragioni anagrafiche ovvie ma come funzionava? era appena nata ci siamo ritrovati in un posto che era cesenatico che in qualche modo ci aveva adottato in un hotel che si chiamava Sirene o qualcosa del genere e facevamo dei ritiri nessuno di noi era un calciatore vero però avevamo invece un allenatore neanche finto io proprio zero ero lì per motivi letterari insomma per meriti letterari però avevamo un allenatore che invece che era magrin che era invece è stato un giocatore insomma di serie A ed era stato è un allenatore per cui ci trattava come dei giocatori per cui c'era il menu poi c'era la lezione tecnica tutti con la tuta in questa sala con lui con la lavagna che spiegava cose che non saremmo mai riusciti a fare neanche con con il monopattino cioè tu lanci la palla poi ti sposti poi in campo succedeva quel che doveva succedere però insomma c'era questa pervenza di serietà molto divertente e poi c'erano le cene i pranzi per cui ci ritroviamo in questa sala e c'erano queste tavolate eravamo una ventina e c'erano Darwin Pasto dei Seregnini Baricco Voltolini che è ancora lì fra noi come allora insomma Simi sono molti molti giallisti anche e c'era questa tavolata quindi dovete immaginare questa tavolata di 20 scrittori e tutti parlavano immaginate quanto ego doveva contenere quella sala tutti così e poi c'era Carlo che in quel periodo appunto facevi blu no cioè lavoravi molto in tv e quindi seguivi questi casi eccetera che molto modestamente parlava con il suo vicino con quelli vicini e poi a poco a poco vedevi che dall'angolo dove era Carlo si spargeva in silenzio e tutti quanti cominciavano a allungare la testa per sentire e dopo tre minuti c'era tutto il tavolo in silenzio cioè stiamo parlando di Severgnini cioè silenzio Severgnini che ascolta e tutti quanti eravamo lì perché lui faceva quello che faceva a Brunotti tu accendi poi stai lì appeso e stai lì fino alla fine posso aggiungere una cosa a questo perché io voglio se passerò alla storia della letteratura sarà per un motivo particolare sai quando c'è la storia e poi c'è un quadratino sotto ci sono io e c'è questa cosa ma l'hai fatto venire in mente perché c'è Dario lì durante una trasferta andiamo non so dove poi ci ritroviamo a dormire in albergo e per motivi di risparmio e tutto ci ritroviamo in tren nella stessa camera siamo io Barico e Voltolini Barico io sono sempre stanco quindi io sto qua e loro due dicono andiamo a fare un giro fuori e infatti vanno fuori a fare un giro per il paese e a me è venuto ping la scintilla e gli ho fatto il sacco nel letto ti ricordo e io voglio passare alla storia della letteratura per quello che ha fatto il sacco nel letto Voltolini a Barico bene allora io vi ringrazio di essere stati con noi ovviamente ringrazio Carlo e il circolo che ci ha ospitati credo che fuori ci siano i libri credo che Carlo sia disponibile a firmarli e quindi anzi qua c'è la scomprano qua si firmano buona serata a tutti grazie grazie